Ringraziamo per le immagini l'associazione ACMOS e per le interviste Quarta Rete TV. Il sindaco di Brindisi, Mimo Consales, ha annunciato a Torino nel corso dell'ultima giornata di lavori della Biennale sulla legalità l'intenzione di intitolare alla povera Melissa Bassi la piazza antistante all'istituto professionale Morvillo Falcone di Brindisi. Allo stesso tempo proporrà alla giunta comunale di intitolare a Melissa anche il grande parco cittadino che sta per solgere in località Cillarese. Il primo cittadino ha annunciato che l'amministrazione comunale di Brindisi organizzerà ogni anno a livello nazionale il forum 19 maggio per la legalità e la democrazia. Sarà un appuntamento importante, ha affermato Consales, che servirà a far sentire meno soli tutti coloro che in Italia sono impegnati nella diffusione della cultura e della legalità e nella lotta ad ogni forma di malaffare. Porteremo a Brindisi tutta l'Italia che lotta da questo punto di vista, tutta l'Italia che vuole reagire e tutta l'Italia che non vuole far sentire soli i sindaci in questa lotta alla illegalità che si può manifestare in mille modi. La criminalità non è il solo modo di aggredire la società civile purtroppo. È stato un attacco molto crudele, molto cattivo. Sappiamo che la mafia ha un codice, si stanno ancora valutando le ipotesi, ma da sindaco, secondo lei questo è stato un attacco mafioso? Io sono assolutamente convinto di no, perché la mafia non colpisce con tre bombole del gas e un detonatore. La mafia purtroppo sa procurarsi il tritolo come noi andiamo a comprare un pacchetto di sigarette al tabacchino e soprattutto demolisce e distrugge strutture a scopo dimostrativo. Questa volta non ci sono una ragazza. Che interesse può avere la mafia ad attirare le attenzioni sul territorio con centinaia di investigatori che disturbano qualsiasi attività illecita per mesi e mesi se non per anni? Io penso che ci troviamo di fronte a un'altra ipotesi, ma dobbiamo aspettare perché una insolita fretta dal punto di vista investigativo ha tirato fuori immagini, ha tirato fuori notizie che potevano essere risparmiate e forse avremmo agevolato il lavoro degli inquirenti. Purtroppo questo non è accaduto, dobbiamo aspettare e sappiamo che c'è ancora un assassino a piede libero. Ma il terrorismo è comunque terrorismo, anche se si fosse trattato di un folle, perché l'obiettivo che intendeva raggiungere l'assassino era quello di generare terrore e ci è riuscito pienamente. Io da sabato sono impegnato a girare con i miei collaboratori tutte le scuole della nostra città, andiamo ovunque ci invitano a parlare con i ragazzi. Abbiamo fatto aprire domenica sera tutte le scuole di Brindisi per far andare lì i studenti, le famiglie, perché noi dobbiamo sconfiggere la paura e soprattutto dobbiamo tornare a far vivere il nostro territorio. Io penso che questa grande rete di solidarietà che si è creata a livello nazionale debba diventare un patrimonio che non dobbiamo più cancellare e che oggi è utile a Brindisi, domani sarà utile a qualcun altro, perché è così che facciamo sentire meno soli coloro che vengono colpiti dalla mafia e da qualsiasi altra forma di criminalità. Vento, lei ha fatto un'affermazione che ha colpito, quello dell'indifferenza. Nessuno si era accorto di quel bidone? Ma sì, e voglio dire, può essere una cosa banale. Probabilmente nessuno, anche tra di noi, avrebbe telefonato al 113 dicendo c'è un bidone a spazzatura collocato fuori posto e a dirla tutta. Forse dall'altra parte del centralino gli avrebbero detto più o meno che me ne frega. Però questo fa parte appunto dell'indifferenza. Se noi cominciamo ad essere attenti a tutto ciò che avviene, attenti a tutelare il bene comune delle nostre città, a salvare e a tutelare la vita di tanta gente, e questo vale anche nella tutela dell'ambiente, vale anche negli attacchi che vengono posti alla società civile. Se riusciamo a fare un lavoro di questo tipo, le nostre città saranno migliori rispetto ad oggi. I sindaci chiedono di non essere lasciati soli, ma quando ci si mette la faccia come cittadino e come primo cittadino, c'è la paura che lo Stato non risponda? C'è questa paura. La paura subentra soprattutto quando i fari si spengono, perché adesso anche il sindaco di Brindisi è esposto mediaticamente e questo agevola la mia città a superare tanti problemi. Il problema è capire quando i fari si spegneranno ed ecco perché abbiamo promosso questo forum che si svolgerà ogni 19 maggio, perché i sindaci, gli amministratori locali, soprattutto coloro che hanno deciso di fare una scelta della legalità e della democrazia, non possono essere lasciati soli.